attenta abbassa la testa ora metti il piede su quella sporgenza perfetto stai andando benone fidati ti dico ci sono venuto già un sacco di volte non c'è pericolo queste sale furono abbandonate dai tempi dell'imperatore sargon il conquistatore dal cielo attenta a quei massi mio padre mi ha raccontato che sargon condusse le armate degli assiti degli ugana e degli yourlings fino alle terre dei ghiacci dove fece costruire una torre alta più delle montagne e sulla cima della torre comandò i suoi cantori della fiamma di accendere il fuoco di agarna per tenere lontani gli spettri dal mondo dei vivitori di sangue è a lui che si leva la pace fra il nostro mondo e quello oltre i ghiacci lo sapevi ecco ci siamo quasi chiudi gli occhi tienimi la mano fidati di me sei pronta apri gli occhi è straordinario vero è grande venti passi dal centro là dove gli smeraldi formano le torri della capitale a shoran puoi camminare sul grande fiume dvaras fatto di malachite fino al mare degli spiriti azzurri verso il tramonto le onde sono fatte di labradorite bianca mio padre mi disse che in gioventù l'imperatore sargon guidò centomila soldati imperiali alla conquista delle terre di ogmave eccole là le vedi le terre dei deserti rossi sono fatte di polvere di calcite e cristalli di gesso quella che vedi spuntare dalle dune è la mitica città di bascemer dalle cento torri collegate da ponti di aventurina è stata riprodotta qui sulla mappa del dominio di sargon fedelmente come i nomi delle pietre li conosco perché il padre di mia madre era un magister e si interessava dei tesori della terra mia madre ha imparato tutto a memoria e me li faceva vedere prima del terremoto che colpì l'impero orientale fino ai monti del nadir vieni ti mostro una cosa che in pochissimi sanno mio padre mi ha detto di non venire qui e di non dire a nessuno che la camera della mappa è ancora intatta non lo so perché ma lui dice che i sacerdoti della monade cercano questa camera e non vogliono che si sappia i segreti che nasconde solo a sargon ed alcuni membri della sua corte era concesso venire qui ci credi ecco attenta non calpestare le foreste dell'ovesteria ottibuchera le scarpe sono fatte di giada appuntita le vedi quelle terre attaccate al bordo della mappa sì quelle ai piedi della statua del generale tartas ecco sono terre invece te lo giuro non mi invento niente lo so anch'io cosa dicono i sacerdoti che oltre il mare di geros ci sono i bordi ghiacciati del mondo e invece guarda meglio esatto continente del tramonto la vedi quella cuspide donice sulla riva del continente quella è rasandra esatto la mitica città dove il dio agarna siede in attesa del portatore dell'era del vero fuoco mio padre mi ha raccontato che un grande esploratore ratuliano raggiunse le coste del continente del tramonto e scrisse tutto ciò che vide in un libro no io non credo a quello che dicono i sacerdoti della monade loro negano persino che l'imperatore sargon sia esistito e invece mio padre mi ha detto che sargon salpò dalla città di kashapur quella fatta di malachite e quarzo rosa ai piedi delle montagne di gaenath sono fatte di sal gemma eccolo lì vicino a quei pezzi di volta franata l'imperatore che conquistò il mondo non era una leggenda lui mise insieme 600 galeoni da guerra di kalen e arrivò al continente del tramonto portando con sé la corona nera la spada di agarna e l'elmo di corantis ora è lì che attende immortale che qualcuno degno della corona attraversi il mare e che prende il comando delle legioni di sargon per portare la verità e il fuoco di agarna contro la falsità della chiesa della monade lo zio di mio padre è un capitano di navi a samothbas quando sarò grande voglio imparare a usare la spada ed andare per mare voglio vedere le sponde del continente del tramonto e voglio vedere la città pirasandra voglio vedere le luci simile a bandiere luminose nel cielo notturno e gli arcobaleni oro e rossi alle cascate del serpente piumato ho impresso questa mappa nella mia memoria e potrei disegnarla cento volte perfettamente certo che potrai venire con me sei un adepta della chiesa della monade sei brava col bastone spezzato insieme viaggeremo per i confini dell'impero di sargon e infine troveremo la germa della corona nera e con c'è qualcuno nei tunnel spegni la torcia hai detto a qualcuno che veniva le rovine allora devono averci seguito deve essere quel maldetto interrogatore del tempio che ha parlato con mio padre maledizione non devono vederci o ci metteranno i ferri roventi seguimi conosco un passaggio che porta in basso non so che cosa ci sia là ma dobbiamo tentare bentornati e bentornate al podcast di quei ragazzi io sono moidart gm e in questo episodio per la rubrica sulle strade dell'avventura parleremo di mappe e mondi fatti in casa se non avete ancora avuto la possibilità di ascoltare l'ultimo brano di diraia intitolato su ali di corvo vi consiglio di andare a farlo non ve ne pentirete se prendiamo un romanzo fantasy lo apriamo immediatamente prima o subito dopo la prefazione molto probabilmente ci imbatteremo in una mappa una pagina speciale immancabile in un buon romanzo fantasy un punto di riferimento durante la lettura che ci permette di avere uno sguardo di insieme sulle strade sulle foreste sui mari e sulle città in cui si muovono i protagonisti del racconto la mappa ci permette di avere anche una dimensione geografica chiara che accompagna la nostra immaginazione ogni qual volta verrà menzionato un luogo specifico nella storia che stiamo leggendo io fin da piccolo ho sempre adorato le mappe mio padre teneva alcune carte nautiche appese in sala e spesso mi trovavo a perdermi nelle rappresentazioni tattiche degli schieramenti degli eserciti nelle enciclopedie o nelle rappresentazioni delle terre esotiche su antiche mappe medievali del medio oriente o della mitologica asia ci sono delle mappe a cui sono particolarmente affezionato una è sicuramente l'enorme mappa pieghevole della terra di mezzo presente alla fine dell'edizione rusconi del 1991 del signore degli anelli in mio fortuito possesso non so quante volte da piccolo e non solo mi sono messo con il libro in grembo a scrutare i nomi fantastici su quella mappa mi evocava un senso di maestà e meraviglia silente bastava uno sguardo a quel foglio ingiallito e delicato per percepire la vastità di quei luoghi mi sembrava davvero di sentire soffiare i venti gelidi sulle montagne nebbiose o di sentire le atmosfere claustrofobiche della vetusta foresta di Fangorn o l'angosciante e arida ad esolazione di mordor oppure le mappe dei romanzi di joe d'ever e john grant del ciclo lupo solitario che hanno gentilmente ospitato le mie prime avventure a dungeons and dragon prima serie o ancora le mappe dei cicli di dragon lens e del ciclo della spada nera di margaret weiss e tracy hickman e moltissimi altri alle elementari ricordo che chiedevo spesso ed insistentemente alla maestra rossella di storia se potevo fotocopiare le mappe presenti nel sussidiario scolastico o mappe di città anche d'epoca moderna dai libri di geografia spesso mi accontentava credo anche abbastanza stranita e io disegnavo mure e templi castelli e ponti per poi usare quelle mappe in assedi o come città di partenza o passaggio nelle avventure di di e di bei tempi spensierati in generale le mappe sono indispensabili nella maggior parte dei giochi di ruolo sono anzi l'elemento più importante di un manuale di gioco è osservando la mappa che si generano i collegamenti fra luogo e luogo le tempistiche di spostamento e gli eventi durante i percorsi quegli eventi proprio che scandiranno le nostre avventure personalmente mi sentirei perduto senza una buona mappa che sostenga la campagna in corso o mappe ogni qual volta sento che è il momento di varare una nuova campagna allora è anche il momento di disegnare una nuova mappa anche se l'area di gioco scelta è già rappresentata nelle mappe dell'ambientazione comunque sento il bisogno di ridisegnarla da capo riportando quanto esiste nella mappa originale per poi aggiungere tutta una serie di sentieri strade fattori isolate rovine fonti e ruscelli che sono solitamente troppo piccoli per essere rappresentati in una mappa d'ambientazione per me è fondamentale che la mappa che ho prodotto mi piaccia e che offra tutta una serie di spunti e luoghi interessanti in cui ambientare quest secondarie o interessanti incontri casuali nel disegnare la mappa sto già programmando e costruendo lo scheletro della campagna di gioco e mano a mano aggiungo nomi e particolari già mi immagino cosa essi rappresentino come siano fatti e quali atmosfere li caratterizzeranno al momento di descriverli ai giocatori sarò forse un po esagerato ma se nella regione in cui stanno viaggiando i giocatori ci sono dei mostri per me è importante segnarmi il luogo in cui plausibilmente possono avere la loro tana questo anche se so che molto probabilmente personaggi giocanti non le vedranno mai ma serve a me per creare uno sfondo di coerenza e realismo al luogo scelto per l'incontro o per il viaggio non ho l'arroganza di dire ad altri come disegnare le mappe né di mettere nero su bianco quale sia il metodo migliore per farlo né per organizzarle voglio solo condividere con voi una parte del processo di immaginazione organizzazione e creazione di una campagna partendo dalla mappa nella speranza che possa essere d'aiuto e d'ispirazione per una stessa campagna di solito butto giù anche una decina di mappe diverse senza contare quelle fatte a richiesta dei giocatori sui luoghi in cui si muovono direttamente luoghi più ristretti e limitati di una regione o di un intero continente come un accampamento una fattoria la sala di un tempio o una grotta niente di male nell'avvalersi di mappe già create o stampate dagli sviluppatori del gioco scelto o da altri artisti su internet io l'ho fatto moltissime volte ma disegnare di propria mano su carta o sul pc la propria mappa cambia tutto il modo che avrete nel sentire e immaginare il vostro mondo io preferisco carta e matita ma ultimamente ho scoperto che ci sono diversi programmi gratis che forniscono ricche tavolozze di strumenti in grado di poter creare dei prodotti finali davvero niente male quando mi trovo col foglio bianco davanti solitamente parto dalle coste o da un punto di riferimento essenziale che possa dare un carattere alla mappa disegnare le coste secondo me è la via più semplice se vogliamo che nella nostra mappa siano presenti le acque di un mare o di un grande lago già tracciando i contorni frastagliati delle coste ci immaginiamo le onde che si infrangono sulle spiagge di un golfo antistante una foce di un fiume che ha trasportato per secoli o millenni depositi sabbiosi e argillosi fino al mare dunque quella zona potrebbe ospitare un'area di acquitrini salmastri dove la popolazione vive su palafitte le cui finestre sono piccole coperte di teli dalla trama fitta per evitare le punture di in sé un tratto di costa più rettilineo in una zona settentrionale della mappa potrebbe invece rappresentare alte scogliere contro cui le correnti marine spingono vasti fronti temporaleschi le creature o la popolazione di queste regioni costiere potrebbero vivere in tane sommerse o in grotte dentro cui persino hanno costruito interi porti e città nascoste che in precisi momenti del giorno vengono parzialmente allagate dalle maree permettendo alle navi magari pirata di prendere il largo col favore di una divinità misteriosa che domina gli abissi antistanti la scogliera un grande golfo o un fiordo che affonda nell'entroterra potrebbe invece ospitare una grande metropoli mercantile e dalle alte mura e con vaste flotte che affolano il grande porto protetto naturalmente dalla conformazione geografica del golfo qui si potranno incontrare viaggiatori al seguito degli equipaggi mercantili provenienti dalle terre che si affacciano su quello stesso mare le taverne rumoreggeranno delle voci sguaiate dei marinai e degli schiavi in dieci lingue diverse magari è in una città del genere che un capitano indebitato cerca disperatamente di mettere insieme un equipaggio verso un'isola leggendaria e pericolosa bene a questo punto potremmo aggiungere qualche isola magari sulla direzione verso il mare in cui si allungano le montagne vicino alla costa sarebbe plausibile infatti che le ere geologiche abbiano infine fatto sprofondare parte della costa nel mare da cui ora affiorano solo le cime delle montagne appunto come isole fatta la costa è il turno delle montagne questo elemento può rivelarsi estremamente utile per dividere in sotto regioni il resto della mappa non solo per i confini politici ma anche climatici le montagne inoltre ci aiutano a definire anche la fonte e la direzione dei fiumi che scendono verso le pianure o verso il mare le montagne saranno molto probabilmente delle zone impervie ammantate dalle nuvole basse e magari coperte in parte da vaste foreste nebbiose tolti gli insediamenti dei nani o di popolazioni simili in pochi vivrebbero sui monti se non sparuti gruppi di pastori con le loro famiglie ma se il nostro è un mondo fantasy allora è probabile che le montagne siano il luogo pericoloso per antonomasia le grotte potrebbero ospitare ogni forma di creatura e quelle razze nemiche della civilizzazione comune potrebbero arroccarsi proprio in questi luoghi impervi le montagne spesso inoltre fungono da barriera climatica dunque una cordillera che si allunga da est ad ovest sarà in grado di arginare in parte i venti gelidi da nord permettendo alle regioni meridionali di beneficiare di un clima più temperato oppure potrebbero smorzare l'umidità e le precipitazioni che provengono da una regione umida o più tropicale generando una regione desertica sul versante montano opposto fatte le nostre montagne dobbiamo scendere nelle pianure saranno vaste praterie punteggiate di macchie boschive solcate da placidi e ricchi fiumi pescosi o saranno invece ampie distese di erba rinsecchita dal sole o stranata dal freddo dipende dalla fascia climatica e alla scala di grandezza che abbiamo scelto di applicare alla nostra mappa più sarà grande continenti o parte di continenti maggiore sarà la possibilità di variare il clima e di conseguenza la flora e la fauna le culture e le creature del nostro mondo se invece la scala della nostra mappa è regionale o della grandezza di una nazione allora questa variabilità sarà necessariamente ma non obbligatoriamente più ristretta prendiamo ad esempio l'europa continentale presenta grandi variabili climatiche ma comunque ristrette fra la fascia mediterranea e quella nord continentale ciò ci permette di disegnare sulla mappa partendo da sud verso nord assolate coste irregolari fronteggiate da arcipelaghi assolati e popolosi dove antiche civiltà si sono plausibilmente sviluppate e sovrapposte nei millenni godendo di un clima ideale per le grandi coltivazioni di cereali e altrettanto vaste varietà di prodotti agricoli spostandoci verso nord troveremo aree temperate dal clima mite in cui potremmo disegnare anche foreste dolci rilievi collinari con regni fiorenti e popolosi che possono godere di ampie praterie in cui allevare leggendari cavalli o su cui sorgono grandi città murate magari vicino ad un fiume o ad un lago pescoso ancora più a nord cominciamo a vedere terre in cui il clima diventa meno clemente gli inverni si fanno più rigidi le popolazioni si concentrano nei pressi di aree che permettono l'agricoltura mentre altre invece sono nomadi e vivono sfruttando le enormi riserve di selvaggina che prosperano nelle fredde foreste e nelle paludi che punteggiano il territorio assieme a torbiere e ad aree perennemente spazzate dai venti continentali o che dal mare portano abbondanti precipitazioni qui i popoli saranno induriti da una vita in cui i beni di lusso il buon cibo non sono affatto scontati è probabile che avremo a che fare con una popolazione bellicosa o dalla tradizione guerriera e dai miti incentrati sulla lotta fra l'uomo e la natura ancora più a nord di così ci troveremo in terre spopolate o abitate da popoli che ricordano raramente un'estate clemente e abbondante qui le risorse della terra sono poche potrebbero delineare le abitudini e l'aspetto di popoli che la abitano di contro la natura selvaggia sarà dominante e più pericolosa che altrove in ottica fantasy il nord è sempre un luogo pericoloso e infestato da mostri rari altrove o da popolazioni umanoidi che ancora contendono ferocemente la terra gli esseri umani che si ostinano a vivere in una terra che li ha formati e temperati nel corpo e nello spirito così come altri territori dal clima estremo è plausibile che in queste aree dimorino creature leggendarie e dalle dimensioni spaventose lontane dalla minaccia del brulichio civilizzato e armato di altri luoghi più ospitali non dobbiamo ovviamente dimenticarci dei fiumi e dei laghi questi elementi sono fondamentali alla sopravvivenza di grandi regni e metropoli è quindi probabile che lungo gli argini dei fiumi soprattutto se navigabili siano presenti un numero di insediamenti maggiore rispetto alle aree forestali o di pianure vaste ma in qui è difficile trovare ampie porzioni d'acqua corrente e pura ogni aspetto della mappa che abbiamo disegnato e la sua scala andrà a caratterizzare le culture che vi abitano una zona alluvionale farà sì che gli insediamenti siano prevalentemente in collina o che siano addirittura galleggianti e di conseguenza avremo a che fare con una civiltà originale e dalle abitudini pecuriali se non addirittura esotiche cosa si risveglia ogni sette anni durante la stagione delle piogge perché le mura di questi villaggi sono così esageratamente grandi le foreste occupano a volte vaste regioni e sono perfette per celare luoghi inesplorati e pericolosi le foreste sono un buon punto da cui far uscire minacce consistenti e numerose ai danni dei popoli che vivono sui suoi confini popolazioni silvane a custodia di alberi e fonti magiche di rovine un tempo baciate dal sole e ora soffocate da rampicanti semisenzienti e maledette da magie oscure senza contare che le foreste permettono volendo di ricreare quell'atmosfera dell'immaginario medievale popolata da sinistre leggende su creature mostruose e nascoste nel buio profondo della notte boschiva una foresta abbastanza grande potrebbe nascondere addirittura un intero sottomondo di culture e razze diverse divise in regni clan e casate magari superstiti di un passato glorioso decaduto da quando il cuore della foresta è andato oscurandosi forse al centro della regione ripose il corpo di un dio malvagio da quando il suo corpo è stato inghiottito dalla vegetazione l'intera foresta è divenuta estensione della sua volontà coinvolgendo in tal senso tutti gli abitanti e le creature che la abitano se così fosse potrebbe essere che nelle città vicine sia nato un ordine di cavalieri o cacciatori leggendari devoti ad una promessa o ad una religione volta a combattere il male che emerge ciclicamente dai boschi ammantati di nebbia e oscurità dando uno sguardo di insieme alla nostra mappa verrà quasi istintivo disegnare i confini delle regioni e dei territori in cui è divisa fra regni e aree di influenza di popoli razze culture e religioni gli ostacoli morfologici possono dividere due aree linguistiche o religiose e persino regni e imperi ci saranno nella mappa aree e luoghi più facilmente difendibili di altri e sarà proprio lì che sorgeranno le grandi fortezze e le fortificazioni più imponenti magari scenario perpetuo di guerre e battaglie disposte le città le capitali i guadi i templi i fari e tracciate le strade e le piste arriva il momento di dare un tocco più esotico e accattivante alla nostra mappa informazione aggiungere sistemi di grotte rovine necropoli cimiteri navali campi di battaglie infestati paludi brulicanti di troll e mostri miniere abbandonate accessi al sottosuolo monumenti faraonici semi crollati o in costruzione e mentre lo facciamo lasciamoci ispirare dalle immagini generate nella mente in merito a questi luoghi accompagnare l'intero processo da una bella playlist di colonne sonore sarebbe l'ideale poiché il potere della musica riempirà quei luoghi di odori ombre creature suoni e trame già pronte per essere messe sul quaderno per scritto anche i nomi possono dare un tocco di credibilità alla nostra mappa se abbiamo messo città sulle montagne o sulle pareti di grandi canyon ad esempio potremo accomunare i nomi di queste città nella regione con una radice simile immaginando che nella lingua di quel popolo quella parte di parola significhi appiglio oppresa se quella parola ad esempio è taul allora avremo la città di taul barian quella di taul kiterian o il tempio pendente di kaias taul questo sistema potremmo applicarlo anche ai nomi propri non necessariamente taul per dare ancora una maggiore impressione di identità a quello specifico popolo senza contare che porsi la domanda ma perché diavolo avranno costruito le città pendenti sulle pareti a strapiombo potrebbe suggerirci giustamente la presenza di un pericolo costante e mortale che si nida in quella specifica vallata o canyon in grado di fare strage persino degli abitanti di una città e una possibile giustificazione al perseverare degli abitanti di abitare appunto quella regione potrebbe essere una vena di un minerale incredibilmente prezioso scoperto solo in quel luogo o un sistema di caverne abbandonate e un tempo abitate da una civiltà ricca e costruttrice di artefatti magici per aiutarci a creare nomi potremmo sfogliare le mappe dei romanzi fantasy o quelli di regioni particolari ma semi sconosciute del nostro mondo come le repubbliche sovietiche ad esempio i paesi come la georgia l'armenia oppure le carte dell'antico impero romano persiano se invece non volessimo rubare nomi da altre ambientazioni allora potremmo scomporre e mischiare i nomi pregenerati che più ci piacciono facciamo un esempio il nome del mago stregobor dei romanzi di the witcher suona bene acusticamente però è molto specifico proviamo a sostituire la s con la t tregobor dal suono cosa vi ispira una città nanica il covo di pericolosi pirati cultisti o una foresta incastonata fra i monti proviamo ora a prendere la parte finale bor e la parte iniziale stre se li invertiamo e li uniamo può venire fuori un nome non musicale ma esotico come borstre se vogliamo ammorbidire il suono potremmo aggiungere una m o una n finale borstre in borstre in quindi proviamo a metterla in una frase come non vi conviene prendere la strada per borstre in stanotte oppure è settimane che non vediamo luci accese lassù sui colli da borstre in questo era un esempio certamente non fra i più brillanti lo ammetto ma questo sistema si può fare con ogni parola e nome prendendo pezzi da entrambi e mischiandoli fino a che il nome non ci suggerisce qualcosa o musicalmente non ci appaga se la scala della mappa è più contenuta allora dovremmo concentrarci sugli elementi dominanti che vi apponiamo sopra il fiume le montagne la foresta la palude e la strada che taglia la mappa da una direzione all'altra ovviamente stiamo facendo degli esempi abbastanza banali ma è giusto per capirci se la mappa è percorribile da un lato all'altro in una settimana poco meno allora anche i luoghi meno visibili si meritano un nome i monti più alti acquisiscono identità se hanno un nome un viaggiatore potrebbe dire al gruppo quando questo gli chiede delle informazioni siete sulla strada giusta tenetevi quel monte a sinistra e proseguite fin dove dura la foresta a settentrione all'incrocio svoltate a ovest verso la città oppure potrebbe dire no non hai sbagliato questa è la vecchia via di ranan tenetevi monte uran a sinistra mentre proseguite lungo il bordo della foresta di baaten fin dove arriva a settentrione lassù al crocevia dell'impiccato svoltate a ovest verso mirian i nomi danno vita ai luoghi a seconda del suono possono già suggerire un senso di mistero o pericolo anche se credo questo vari molto da persona a persona gli esempi che faccio sono a mio gusto personale e abbastanza scavolati sul momento bosco zanna non suggerisce nulla di buono la foresta di ruan tarna se il nome suona molto diverso da quelli che lo circondano nella stessa regione potrebbe suggerire un passato remoto di quel luogo nascosto in quel nome e un segreto che lo evidenzia lo rende più interessante dei colli senza nome lì accanto una mappa fattamente si ascolta buona musica evocativa come abbiamo già detto può pulsare di vita propria e di storie da raccontare e quando poi vi troverete a scrivere qualche riga o quaderni interi per definire cosa c'è in effetti in quei luoghi e la storia delle regioni e dei regni non dovrete che dare un occhio a quanto avrete già disegnato per riempire pagine intere di trame locali o intrecciate anche a grandi distanze di epopee nazionali di mortali segreti nascosti fra bruglieri isolate e vallate sicuramente non abbiamo toccato molti altri passaggi o alternative in questa puntata inerente al tema mappe disegnare una mappa in terre desertiche o prevalentemente marittime è una questione completamente diversa ma comunque assimilabile a quanto abbiamo detto finora in ogni caso spendere un po di tempo sugli atlanti o ascoltando appassionanti documentari sul clima sulle grandi foreste montagne deserti e praterie aiuta moltissimo nell'immaginare e creare mappe senza contare poi l'influenza positiva della storia per quanto riguarda i popoli che abiteranno la vostra mappa e la loro storia pregressa ora ci ascoltiamo il messaggio di edo la mappa in un gioco di ruolo è molto importante si parte da la mappa vera e propria che la mappa del dungeon della zona più ristretta però a mio avviso avere la mappa del mondo della città della regione in cui si svolge così svolgeranno le avventure del vostro gruppo è fondamentale per aver ben chiaro al gruppo dove si trovano faccio per dire se è una zona desertica una tundra un insieme di sistemi spaziali dei tunnel ma soprattutto è importante per il master per averci ben chiaro cosa propone e cosa avrà da dire a suoi giocatori in proposito su questa ambientazione che sta proponendo è una cosa molto importante secondo me che ce l'abbia ben chiaro per evitare di andare tra virgolette fuori tema o di doversi fermare per non perché è andato magari in controsenso o è andato contro quello che avrebbe voluto dire perché si è dimenticato che nella sessione prima aveva detto che lì c'era un fiume poi effettivamente nella mappa non c'è quindi i giocatori si trovano davanti a quello che non è un fiume per esempio questo è un esempio che è successo in gioco veramente quando io ero un povero imberbe giocatore in realtà quindi la mappa è molto importante ancora più importante secondo me è che sì a volte c'è mancanza di tempo quindi stare lì a disegnarsi un dungeon una mappa può essere complicato del resto al di fuori del gioco di ruolo purtroppo tutti noi la maggior parte di noi si lavora abbiamo impegni affettivi impegni sportivi quindi a volte trovare un'ora due e libere per mettersi lì e disegnare un sistema di galassie piuttosto che un castello piuttosto che la mappa di una nave da prendere all'arrembaggio non è così semplice quindi conviene andare su internet dove il materiale è pressoché infinito però però disegnare una mappa da zero con le proprie mani è importante perché rende molto più personale e molto propria l'ambientazione che si ha da proporre io l'ho fatto questo spesso in ambientazioni che avevo creato io di storia che avevo creato io e questa cosa mi ha reso il mondo che avevo intorno e il mondo che davo ai miei giocatori che descriveva i miei giocatori molto più reale sentito rispetto a un qualcosa di stampato o prefabbricato o pensato da qualcun altro semplicemente quindi magari un consiglio che posso darvi se non avete il tempo di disegnare tutta l'intera mappa di disegnare tutto nei minimi dettagli però qualcosa qualcosa un dungeon la pianta di un palazzo fatelo intanto vi tenete allenati comunque con la fantasia perché è sempre importante questa cosa sempre tenere gli ingranaggi del cervello ben oliati aiuta molto vi dà possibilità svariate quando siete poi di fronte ai vostri giocatori dovete anche magari improvvisare qualcosa e in più come vi dicevo approfondisce quello che volete realmente dire quello che volete portare intorno al tavolo da gioco è una cosa che vi consiglio di fare cari nerdazzi detto questo io vi saluto un salutone da edots dei nerdazzi e che gli dèi vellino sui vostri tiri di dado sempre che ne abbiano voglia il tempo edo dice bene che fare una mappa da sé disegnarla di propria mano sicuramente farà sì che il master perciperà la mappa come una propria creazione e quindi sarà anche molto facilitato ad improvvisare lungo la strada senza contare che in effetti disegnare mappe è un ottimo esercizio mentale perché struttura il pensiero in termini funzionali allo scopo ed è pure uno splendido passatempo certo come dice edo se sia il tempo fra un impegno e l'altro ora ci ascoltiamo il messaggio di sandrino salve a tutti avventurieri e avventuriere salve claudio moidart gm stasera parliamo di mappe mappe che sono un po l'ossatura no del nostro far vivere le avventure ai nostri vari personaggi giocanti che andiamo a creare nelle varie ambientazioni dalle più disparate una cosa vorrei solamente sottolineare di questo discorso delle mappe che sono estremamente importanti a me personalmente piace oltre che la caratterizzazione estrema di un di un territorio cioè magari inserire tutti quei vari luoghi di interesse tutti quei vari puntini che sono in realtà i villaggi più grandi o più piccoli che animano appunto le nostre le nostre ambientazioni puntare su quelle mappe invece un po più scarne quelle mappe dove magari non tutto è stato estremamente ben registrato da un cartografo quel tutti quei luoghi quelle quei posti insomma molto molto più liberi molto più scevri da tutti quei vari puntini no perché magari è potrebbe essere interessante giocare un'avventura in un luogo tra virgolette inesplorato mi viene in mente per esempio la mappa del davocar di un gioco come simbarum che è estremamente poco dettagliata perché dà proprio la sensazione di totalmente inesplorato di luoghi ancora non mappati dai cartografi di luoghi un po più remoti difficili da raggiungere delle quali in pochi magari sanno qualcosa magari ci sono anche delle piccole comunità che ci vivono ma che nessuno mai magari ha interagito con loro e roba del genere secondo me quando si viene creata un'ambientazione o viene creata una mappa a un punto dove i nostri giocatori andranno a vivere è carino anche tenere delle zone un po meno mappate un po meno dettagliate in modo che magari in futuro ci venga in mente di aggiornarle con tanti altri dettagli o magari gli avventurieri stessi possono andare a scoprire cose che magari nessuno ha mai mappato nessuno ha mai visto ecco secondo me da un certo punto di vista tenere delle zone magari delle nostre mappe che andiamo a creare un po meno caratterizzate o meglio un po meno piene di punti di riferimento o di appunto un villaggio cose conosciute secondo me appunto dalla possibilità di inserire successivamente dinamiche queste secondarie luoghi particolari e soprattutto nelle avventure che andiamo poi a scrivere dove la componente di esplorazione dell'ignoto è particolarmente elevata ecco avere mappe poco poco dettagliate può aiutare un po il master a potersi inventare le cose più disparate sia a dare ai giocatori quel senso proprio di totale ignoto ecco questa è una cosa che a me personalmente piace molto e sulla quale appunto volevo mettere l'accento detto questo non aggiungo altro e ringrazio voi che state seguendo la puntata e soprattutto Claudio moidartgm grazie a tutti sandrino mette risalto una cosa importante che non abbiamo detto le mappe aiutano master e giocatori ad orientarsi nel corso della campagna ma è giusto dare per scontato che i giocatori ne abbiano una o che ne abbiano una in effetti piena di dettagli come quella in uso al master le mappe nell'antichità erano vere e proprie opere d'arte richiedevano molto tempo per essere fatte a partire dal materiale su cui erano tracciate e al tempo necessario per raccogliere le informazioni utili a crearne una addirittura erano i re o i grandi mercanti a commissionare le mappe ai propri cartografi inviati in missioni pericolose al seguito di esploratori o imbarcati su costosissime spedizioni che avevano proprio lo scopo di generare una mappa sarebbe strano ai giocatori attenzione non ai personaggi ai giocatori non avere una mappa ma di contro non avere una mappa potrebbe portare a perdersi e a utilizzare finalmente quelle abilità utili all'orientamento o alla sopravvivenza in terre ostili che solitamente sono difficili o rare da usare una mappa potrebbe essere una ricompensa assai preziosa per un gruppo tanto più che acquistarne una sarà spesso fuori dalla portata delle finanze del gruppo inoltre mi trovo d'accordo con sandrino sul discorso di non riempire necessariamente le mappe di luoghi almeno non la mappa fornita ai giocatori so che è dispendiosa a livello di tempo ma disegnarsi due mappe identiche una per il master e l'altra per i giocatori molto più pulita di quei luoghi appunto che invece il master ha segnato sulla propria potrebbe essere molto interessante perché magari saranno proprio i giocatori a riempirla lentamente con i luoghi di interesse in cui si imbatteranno a questo proposito ci viene incontro il mondo videoludico l'infinita schiera di giochi di ruolo per console pc offrono davvero una spaventosa quantità di luoghi segreti e situazioni legate ad essi utilissimi da riproporre del gioco non dobbiamo necessariamente ricopiarle e giocarle identiche e se invece le decidessimo di farlo non ci vedo assolutamente niente di male ma potremmo cambiarli di qualche particolare dal tipo di creatura incontrata o nell'atmosfera oppure potremmo prendere un pezzo là un pezzo qua per poi uscirli in qualcosa di completamente nuovo e che ci appartiene ovviamente questo discorso vale per i giochi tanto quanto per i romanzi o per i film per questo episodio è tutto chiedo venia per qualche errore che avrete sicuramente sentito in puntate precedenti ma capita a tutti di confondersi nella puntata ai mondi oltre il vero ad esempio confuso il fiume a cheronte con il tartaro nella puntata spunti dalla realtà invece ho confuso dannazione questo è grave l'onu con la nato ma è davvero stato un attimo di defiance e chissà quanti altri sfondoni ho tirato vabbè sarà all'età spero che abbiate trovato interessante o utile questo o altri episodi se è così allora vi invito a sostenere quei bravi nerdazzi seguendo il podcast sulla vostra piattaforma d'ascolto così da non perdervi i prossimi episodi di iscrivervi al nostro canale youtube e twitch dove potrete trovare le sessioni della nostra campagna simbarum e di iscrivervi alle nostre pagine instagram e facebook dove edo e bob scrivono articoli sulle ispirazioni filmiche letterali e sul mondo delle magic potrete scrivere un commento sulle nostre pagine o una recensione al podcast le leggeremo tutte anche questo è un modo per sostenerci da moidartgm e da quei bravi nerdazzi un saluto e che gli dèi veglino sui vostri tiri di dado ciao 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 ciao